Marco Aurelio, imperatore romano e filosofo, ci ha lasciato un tesoro di saggezza nei suoi scritti personali, conosciuti come meditazioni. Sebbene scritte quasi 2000 anni fa, le riflessioni di Aurelio sulla natura umana, sulla virtù e sulla resilienza rimangono incredibilmente attuali anche oggi. In un mondo spesso caratterizzato da un ritmo frenetico e da una costante ricerca di approvazione esterna, gli insegnamenti di Aurelio offrono una guida senza tempo per affrontare le complessità della vita con grazia, saggezza e pace interiore. La filosofia di Aurelio, radicata nei principi dello stoicismo, sottolinea l'importanza dell'autocontrollo, della ragione e dell'accettazione di fronte alle avversità. Ci ricorda che non possiamo controllare gli eventi esterni, ma possiamo controllare le nostre reazioni ad essi. Questa profonda intuizione è al centro della filosofia stoica e funge da potente antidoto alle ansie e alle frustrazioni della vita moderna. Comprendendo e applicando gli insegnamenti di Aurelio, possiamo imparare ad affrontare le sfide del nostro tempo con maggiore resilienza, determinazione e tranquillità. Le sue parole non sono semplici reliquie di un passato lontano, ma principi eterni che possono darci la forza di vivere una vita più appagante e significativa nel presente. Lo stoicismo, l'antica filosofia che ha profondamente influenzato Marco Aurelio, offre una struttura per vivere una vita virtuosa. Al centro dello stoicismo c'è l'importanza della ragione, della virtù e del vivere in accordo con la natura. Gli stoici credono che la vera felicità non si trovi nei beni materiali, ma nel nostro stato mentale interiore. Uno dei principi centrali dello stoicismo è la dicotomia del controllo. Abbiamo il controllo sui nostri pensieri e azioni, ma non sugli eventi esterni. Concentrando la nostra energia su ciò che possiamo controllare, ci liberiamo dalla sofferenza inutile. Lo stoicismo sottolinea l'importanza della virtù come unico bene. Virtù come saggezza, giustizia, coraggio e temperanza sono essenziali per una vita fiorente. Marco Aurelio dava grande importanza all'autodisciplina come pietra angolare di una vita virtuosa e appagante. Credeva che la vera libertà non derivasse dal cedere a ogni nostro capriccio e desiderio, ma dal dominare la nostra mente e le nostre emozioni. Nelle sue meditazioni ricorda a se stesso. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Per Aurelio, l'autodisciplina implicava coltivare la capacità di controllare i nostri impulsi, resistere alle tentazioni e agire secondo il nostro giudizio razionale. Riconosceva che le nostre menti sono spesso i nostri peggiori nemici, inclini a distrazioni, ansie e schemi di pensiero negativi che possono sabotare il nostro benessere. Praticando l'autodisciplina, alleniamo le nostre menti a concentrarsi su ciò che è veramente importante, a resistere al fascino della gratificazione immediata e a fare scelte in linea con i nostri obiettivi e valori a lungo termine. Questo processo di padronanza di sé non consiste nel sopprimere le nostre emozioni, ma piuttosto nell'imparare a osservarle senza giudizio e a scegliere le nostre risposte con saggezza e chiarezza. Una delle intuizioni più liberatorie offerte da Marco Aurelio è il riconoscimento che gran parte di ciò che percepiamo come sotto il nostro controllo è in realtà al di là di esso. Possiamo sforzarci di controllare gli eventi esterni, di plasmare il mondo secondo i nostri desideri, ma alla fine siamo in balia di forze più grandi di noi. Aurelio ci ricorda che non possiamo controllare il tempo, le azioni degli altri o le innumerevoli circostanze impreviste che la vita ci presenta. Aggrapparsi all'illusione del controllo su questi fattori esterni porta solo frustrazione, ansia e un senso di impotenza. L'approccio stoico non è quello di rassegnarsi alla passività, ma piuttosto di concentrare le nostre energie su ciò che possiamo controllare. I nostri pensieri, le nostre azioni e le nostre risposte agli eventi che si svolgono intorno a noi. Accettando ciò che non possiamo cambiare e concentrandoci su ciò che possiamo, coltiviamo un senso di pace interiore ed equilibrio che ci permette di affrontare le sfide della vita con maggiore resilienza. Sezione 5. Trovare la tranquillità in un mondo turbolento. In un mondo spesso caratterizzato da ritmi frenetici e richieste costanti, trovare la tranquillità può sembrare un'impresa impossibile. Eppure, Marco Aurelio ci ricorda che la vera tranquillità non si trova nell'assenza di sfide esterne, ma piuttosto nella nostra risposta interiore ad esse. Aurelio credeva che gran parte della nostra sofferenza derivasse dai nostri giudizi e dalle nostre interpretazioni degli eventi. Permettiamo alle circostanze esterne di dettare i nostri stati emotivi, aggrappandoci al desiderio che le cose siano diverse da come sono. Questa resistenza al momento presente è la fonte di gran parte della nostra ansia e infelicità. La via stoica alla tranquillità consiste nel coltivare una mentalità di accettazione e nell'abbandonare il nostro bisogno di controllare gli eventi esterni. Si tratta di imparare a trovare pace e a pagamento nel momento presente, indipendentemente dalle circostanze in cui ci troviamo. Spostando la nostra attenzione da ciò che ci manca a ciò che già possediamo, la nostra capacità di scegliere i nostri pensieri e le nostre azioni, sblocchiamo la chiave per una pace interiore duratura. Nella nostra epoca moderna, caratterizzata dall'enfasi sul successo materiale e sull'approvazione esterna, il concetto di virtù può sembrare antiquato o persino irrilevante. Eppure, gli insegnamenti di Marco Aurelio ci ricordano che la virtù non è semplicemente una reliquia del passato, ma piuttosto un ingrediente essenziale per una vita fiorente in qualsiasi epoca. Per Aurelio, la virtù non consisteva nel seguire un insieme di regole rigide, ma piuttosto nel vivere in accordo con la nostra natura più elevata. Credeva che la vera felicità e realizzazione derivassero dall'allineare le nostre azioni con i nostri valori e dallo sforzarci di incarnare virtù come la saggezza, la giustizia, il coraggio e la temperanza nella nostra vita quotidiana. In un mondo spesso guidato dall'interesse personale e da una ricerca incessante del guadagno materiale, l'enfasi di Aurelio sulla virtù funge da potente antidoto, dando priorità all'onestà, all'integrità, alla compassione e al servizio agli altri. Non solo contribuiamo a una società più giusta ed equa, ma coltiviamo anche un profondo senso di scopo e di significato nella nostra vita. Marco Aurelio credeva che gli esseri umani siano destinati a vivere con uno scopo, a tendere a qualcosa di più grande di loro. Questo scopo, tuttavia, non si trova nei successi o nei riconoscimenti esterni, ma piuttosto nel realizzare il nostro potenziale di esseri razionali e virtuosi. Per Aurelio, vivere con uno scopo significava allineare le nostre azioni con i nostri valori, contribuire al bene comune e sforzarsi di incarnare le virtù della saggezza, della giustizia, del coraggio e della temperanza nella nostra vita quotidiana. Credeva che concentrandoci su ciò che è veramente importante, vivere una vita virtuosa, troviamo un senso di significato e di realizzazione che trascende i piaceri effimeri del mondo materiale. In un mondo spesso caratterizzato da mancanza di direzione e di significato, gli insegnamenti di Aurelio offrono un antidoto convincente. Abbracciando una vita di scopo radicata nella virtù, non solo troviamo maggiore appagamento e soddisfazione, ma contribuiamo anche a creare un mondo migliore per noi stessi e per le generazioni future. Il fascino duraturo degli insegnamenti di Marco Aurelio risiede non solo nella loro saggezza senza tempo, ma anche nella loro applicabilità pratica alle sfide della vita moderna. Se è vero che il mondo è indubbiamente cambiato dai tempi di Aurelio, le sfide fondamentali dell'essere umano sono rimaste sostanzialmente le stesse. Ancora oggi ci confrontiamo con ansie, frustrazioni e incertezze. Ancora oggi dobbiamo affrontare battute d'arresto, delusioni e l'inevitabilità della perdita. E ancora oggi anneliamo a un senso di scopo, di significato e di pace interiore in un mondo che spesso sembra caotico e opprimente. Gli insegnamenti di Aurelio offrono strategie pratiche per affrontare queste sfide. La sua enfasi sull'autocontrollo, sull'accettazione e sulla concentrazione su ciò che possiamo controllare fornisce una struttura per rispondere alle avversità con resilienza e grazia. I suoi promemoria sull'importanza della virtù e del vivere con uno scopo, offrono una bussola per orientarsi nelle complessità della vita moderna, con integrità e intenzione. A quasi 2000 anni dalla sua morte, le meditazioni di Marco Aurelio continuano a risuonare tra i lettori di tutto il mondo. Le sue intuizioni senza tempo sulla natura umana, sulla virtù e sulla ricerca di una vita significativa, offrono una fonte di guida e di ispirazione per affrontare le complessità del nostro tempo. Gli insegnamenti di Aurelio ci ricordano che la vera felicità e realizzazione non si trovano nei beni materiali o nei successi, ma piuttosto nel nostro stato mentale interiore. Coltivando l'autocontrollo, accettando ciò che non possiamo cambiare e concentrandoci sul vivere una vita virtuosa, sblocchiamo la chiave per una pace interiore duratura, per la resilienza e per un senso di scopo che trascende la natura effimera del mondo materiale. In un'epoca caratterizzata da ritmi frenetici, da una costante ricerca di approvazione esterna e da un senso di complessità spesso opprimente, l'eredità duratura di Marco Aurelio funge da faro di saggezza, offrendo una guida senza tempo per vivere una vita più significativa, appagante e serena.